Il nord-est degli Stati Uniti si prepara ad una pesante ondata di freddo e gelo. L'allerta è stata proclamata in città come Philadelphia e New York. Nel New Jersey e il New England si lavora ai piani di emergenza, mentre in molti si preparano al peggioramento delle condizioni meteo annunciato dai bollettini. Sono pronto, siamo abituati da queste parti, questo è il New England. Non è un problema la neve per me, anzi, quando nevica non lavoriamo, se deve venire che venga. Nelle prossime ore ci si attende un metro di neve nel New Jersey e venti tra i 50 e i 65 chilometri orari. Sono previste conseguenze sul trasporto aereo, già colpito da numerose cancellazioni, e su quello terrestre. I governatori degli Stati interessati all'allerta hanno annunciato disagi anche per la probabile chiusura di strade e uffici pubblici, oltre che per il rischio di interruzioni nell'erogazione dell'elettricità.